44 milioni di euro stanno per arrivare in Sicilia per arginare il dissesto idrogeologico che ha colpito l'isola. I fondi sono destinati a 20 interventi che riguardano la prevenzione del rischio in diversi comuni della Sicilia e tra questi anche quelli in provincia di Agrigento e Caltanissetta. Infatti circa 9 milioni andranno a Raffadali per l'eliminazione del rischio idrogeologico a difesa del rione Barca e 3 milioni e mezzo arriveranno a Sant'Angelo Muxaro per il consolidamento del costone roccioso mentre per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta nelle casse del comune di Marianopoli arriveranno 945 mila euro per lavori di consolidamento nella zona case agricole.